Ci troviamo a Pisa al Palazzo dei Congressi per Cannabis, la fiera della canapa. La manifestazione si propone di mettere in mostra le eccellenze della canapa e le sue numerose applicazioni nel campo dell'industria dell'alimentazione e della medicina. A Cannabis la protagonista assoluta sarà la Cannabis Light, diventata ormai un fenomeno culturale, pur dividendo i suoi sostenitori nel nostro paese. Musica 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 Tantissimi i settori presenti alla manifestazione, dall'artigianato all'olistica e il benessere. La nutrizione, la bio edilizia, i tessuti e l'abbigliamento, la farmacologia, le terapie complementari, le conferenze e i seminari. Musica Sono con il signore Franco Nocchi, docente universitario. Buonasera. Buonasera. Allora, signore Nocchi, quando nasce la Cannabis? Qual è la sua origine? L'origine dell'utilizzo della Cannabis è antica come l'uomo, potremmo dire, perché a origine le prime tracce documentate, si parla del 2600 a.C. in un testo taoista che si chiama Wan Di Ne Jin Suen, cioè il canone di medicina interno dell'imperatore giallo, dove per l'appunto la Cannabis, come veniva chiamata e come è chiamata la Dama, era utilizzata per l'appunto come la prima tra le 50 erbe terapeutiche, era utilizzata per l'appunto soprattutto per i dolori, i dolori articolari, per diciamo mitigare quelli che sono i disequilibri, si dice in medicina antica, dello scaldino superiore del tipice scaldatore, cioè di quelle che oggi la medicina convenzionale inquadra come i problemi neurologici e neurodegenerativi. Perché è diventato così, ai giorni nostri, di uso così comune? Ma, sai, qui in questa bella manifestazione, insomma, è fin troppo facile tante volte fraintendere, non l'utilizzo. L'utilizzo della Cannabis Light, che è quella che per l'appunto si persegue in questa manifestazione, ormai ci sono pluri dimostrazioni scientifiche, che per l'appunto apporta molti benefici a livello per l'appunto del sistema nervoso, del sistema umorale, del sistema psicologico, e anche perché appunto fa leva su quello che è il sistema endocannabinoide, che i studi appunto moderni fanno vedere, dimostrano, come per l'appunto è importante per la armonizzazione a 360 gradi del sistema olistico persona. Ci sono ancora comunque molti scettici in questo caso? Sì, sì, perché si confonde l'uso della Cannabis Light con l'uso della Cannabis per lo sballo, e questa è un'altra cosa. E quello che fa la differenza è la linea di confine netta, chiaramente, è la percentuale di THC, cioè la sostanza psicotropa, che poi alcune persone, rispettando le loro scelte, scelgono di fare proprio per alterare lo stato cognitivo. Invece a livello terapeutico è fondamentale mantenere l'armonizzazione dello stato psicoemozionale e cognitivo e per l'appunto focalizzare l'intervento della Cannabis esclusivamente sulla finalità terapeutica. Grazie mille, professore. Grazie a te. Sono qui con il signor Francesco Pizzi, che ha una cosa molto interessante da spiegarci. Allora, io sono un fisioterapista e mi occupo di pazienti che convivono con un grado di disabilità di solito abbastanza grave. Quello che mi ero posto inizialmente come dubbio, affrontando pazienti che seguivano un percorso terapeutico strettamente occidentale, rispetto a persone che utilizzavano la cannabis terapeutica, era che c'era una risposta diversa alla fisioterapia. E andando avanti a studiare, a informarmi e anche a chiedere poi nel rapporto col paziente, quello che mi sono reso conto è che avevano un modo diverso di accettare il loro essere nella patologia. Allora, questo qua apre delle strade incredibili da un punto di vista anche riabilitativo, perché se la sinergia interiore nel paziente è attiva, vuol dire che noi possiamo fare un percorso molto più consapevole e sicuramente che darà dei risultati molto più vasti in molti campi. Allora Giancarlo, buonasera, come va? Va bene, va bene, sì sì, questa è la seconda giornata. Oggi affronteremo varie tematiche legate alla parte terapeutica in medicina e all'utilizzo della cannabis, diciamo medica, per dirla brevemente. Ok, quindi prima edizione di cannabis qui a Pisa e prima manifestazione di cui si parla della cannabis in Toscana. E quindi un'idea originale, particolare in cui si parla della cannabis in tutte le sue principali, cioè dalla medicina all'industria all'alimentazione. Sì, allora, preciso che ieri abbiamo avuto la prima giornata dedicata alla parte legale, quindi c'erano cinque avvocati, tra cui l'avvocato Zaina, Bulleri e altri che ora mi sfuggono, comunque cinque avvocati che parlavano degli aspetti giuridici sull'utilizzo e la coltivazione della cannabis, perché è un argomento d'attualità, a partire dalla comunità europea fino poi all'Italia, stiamo aspettando di definire la legislazione. Quindi ieri parte legale, oggi giornata medica, quindi utilizzi della cannapa, per quanto riguarda le terapie di alcune patologie, tra cui la SLA, tra cui la fibromialgia, tra cui l'insonnia, quindi sono molte gli utilizzi della cannabis per quanto riguarda le terapie mediche. E oggi sarà una giornata dedicata esclusivamente a questo. La giornata di domani invece sarà un riassunto delle due giornate, quindi quella legale, quella medica di oggi, in più si aggiunge la parte olistica, che era presente nei giorni passati con Franco Nocchi, con il professor Franco Nocchi, e domani invece si concluderà, quindi sarà una bellissima tavola rotonda dove si affronteranno tutte queste tematiche. Giancarlo, comunque è un argomento che ancora divide tante persone? Un argomento che divide tante persone sta creando, almeno in questo caso lo posso affermare, perché tutti i giorni siamo sulla stampa in polemica, non noi, ma insomma c'è chi sta polemizzando su questa manifestazione, tra cui un partito politico e delle associazioni, tra cui anche San Patrignano, che devo essere sincero mi ha un pochettino stupito, anche perché poi hanno paragonato questa manifestazione a un altro evento che viene fatto a Pisa, sul quale onestamente noi non c'entriamo niente, che si chiama Canapisa, che è più un rave, più una manifestazione del popolo antiproibizionista, ma che non riguarda le tematiche che noi trattiamo, quindi noi trattiamo gli aspetti scientifici, legali e ovviamente i benefici che questa pianta dà. Ieri c'era anche, per esempio, il presidente nazionale di Feder Canapa e ha illustrato i progetti che Feder Canapa sta depositando presso il nostro ministero e presso la comunità europea, cioè stiamo parlando comunque, diciamo, di un livello diverso, niente a che vedere con Canapisa. L'errore è stato quello, secondo me, di abbinare a questa manifestazione, diciamo, paragonarla, metterla sullo stesso piano di Canapisa, insomma. Non c'entriamo niente. Ok, grazie mille Giancarlo. Grazie a voi, grazie. Grazie a voi. 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 Grazie a tutti